Non escono più le tessere dal tuo mini portafoglio Secrid e il meccanismo di espulsione si è rotto? In Valigeria Morsetti abbiamo il kit di emergenza. Si tratta di una piastra di carbonio che si spinge all'interno del card protector fino alla fuoriuscita di tutti i meccanismi. Successivamente si rimuove insieme alle due mole di contenimento, poi si prendono quelle nuove di ricambio e si inseriscono con cura da entrambi i lati. Scelgo un nuovo espulsore con leva e lo posiziono fino a sentire... Et voilà! Il mini portafoglio Secrid è tornato come nuovo!